Poco più di un mese fa, alla presenza di una folla di fedeli, veniva posta la prima pietra del Santuario Regina della Pace, che sorgerà a quarto in zona Spinelli. Questa mattina, su quello stesso santuario, è stato posto il sigillo a garanzia della legalità. L'atteso santuario, che dovrà sorgere su una superficie di 15.000 metri quadri, nasce da un progetto presentato alcuni anni fa dalla diocesi di Pozzuoli, un progetto da 5 milioni di euro. Non è difficile dunque supporre quanto possa apparire allettante per le associazioni malavituose, che hanno operato per anni in quest'area e per le quali il settore edile rappresenta uno dei più fruttuosi. È dunque indispensabile che le istituzioni e le associazioni anti-racket manifestino tutta la loro vicinanza e il loro supporto a chi dovrà realizzare l'opera. L'associazione anti-racket ci ha chiesto di aderirla a questa iniziativa e noi abbiamo dato il nostro consenso anche nel rispetto del protocollo di legalità. Proprio a tal fine, intorno alle 10.30 di questa mattina, hanno fatto visita al cantiere per la costruzione del Santuario Maria Regina della Pace, accompagnati dal commissario straordinario Maria Grazia Nicolò, i dirigenti della FAI, Federazione Anti-Racket e Antiusura Italiana. Rosario D'Angelo, Silvana Fucito e Tano Grasso, insieme al Vescovo Gennaro Pascarella e al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri. La partecipazione quindi al protocollo d'intesa a ACEN, FAI e Comando Provinciale dei Carabinieri, che ormai ha oltre sei anni di vita, è importante perché ci darà a noi la possibilità di essere molto più vicini agli imprenditori e soprattutto di pubblicizzare questo protocollo che insieme alle altre forze di polizia ci consente di cercare di arginare questo atteggiamento arrogante della camorra, questa camorra in questa cittadina soprattutto nel passato ha fatto parecchi danni. L'iniziativa dal fortissimo valore simbolico è stata promossa dall'Associazione Anti-Racket, Edili per la Legalità e dalla FAI. Per l'occasione è stato apposto il cartello Patto Anti-Racket realizzato al seguito del protocollo d'intesa tra l'ACEN, la FAI e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. La vicinanza dell'Arma che è doverosa e dovuta nei confronti di tutti i cittadini che in questo territorio stanno facendo uno sforzo verso la legalità che credo sia incomiabile e gli vada riconosciuto. È dovuta a questa impresa e alla comunità religiosa di quest'area perché dimostra che c'è il coraggio di voler fare imprenditoria senza pagare il pizzo, quindi mettendosi dalla parte di coloro, di quegli onesti che lavorano con sacrificio, con onestà, pagando le tasse ma non pagando il pizzo. Io credo che sia questo un importante esempio che vada citato e vada esaltato. Sostenere l'edilizia con questa iniziativa rappresenta un atto di prevenzione contro l'illegalità. Siamo qui per far avvertire il nostro sostegno forte, il sostegno del movimento anti-racket a questo nostro collega imprenditore Dile che realizzerà questa importante opera qui a Quarto. Essere qui ha un significato in primo luogo di prevenzione. Siamo qui con il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, quindi con l'istituzione e segnalare che questo è un luogo attenzionato, protetto, vigilato, con tanta solidarietà. Questo è il senso. L'iniziativa segue quelle di oltre 100 cantieri che negli ultimi anni hanno lavorato utilizzando il cartello anti-racket.